Avete voglia di scoprire con me un momento di pura coccola? Attraverso un gesto che a noi donne non piace proprio fare, quello di struccarci. Essential ha pensato per noi, attraverso una sua linea fondamentale, un risultato perfetto di una deterzione piacevolissima. Il primo prodotto è il prodotto che deterge i nostri occhi, è uno struccante bifasico, molto delicato per occhi sensibili, per pelli estremamente delicati come quelle della zona del contorno occhi. Il prodotto è un bifase quindi va utilizzato in questo modo. Agitatelo prima dell'uso, utilizzate due dischetti di cotone che andrete ad imbibire del nostro prodotto in maniera generosa così il nostro trucco degli occhi andrà via in pochi secondi. Questo è il nostro gesto, applichiamo il dischetto lasciamo agire per qualche secondo e scivoliamo lungo le nostre ciglia. Ricordate di fare questo gesto per evitare comunque stress alle ciglia e quindi poi dopo non mi raccontate che avete le ciglia corte. Rimuoviamo l'eccesso sotto e utilizziamo il secondo dischetto. Non faccio questo gesto perché ho voglia di consumare cotone, ricordatevi sempre che un occhio potrebbe avere una leggera infiammazione, qualche piccolo problema, non vi dimenticate di utilizzarli in maniera diversa per evitare che l'altro occhio si possa infettare. Sempre i nostri cinque secondi, pieghiamo il nostro dischetto e rimuoviamo l'eccedenza. E come potete vedere i nostri occhi sono perfettamente struccati. E per il viso? Essential ha pensato a noi con un gel detergente trifasico che ha cinque azioni. Come utilizzare questo prodotto per rimuovere perfettamente il trucco? Eroghiamo nel palmo della mano 4-5 dosi del nostro prodotto in maniera molto generosa. scaldate il prodotto con il palmo della mano, inalate gli oli essenziali contenuti nel detergente e tamponate su tutto il bifo. A questo punto, quando il prodotto sarà perfettamente distribuito, cominciate a massaggiare con movimenti rotatori finché il prodotto non si trasforma in un olio delicatissimo. Come in oriente, l'olio d'argame e l'olio di mandorle dolci ci permettono di avere una pelle fantastica e perfettamente elasticizzata. Quindi, attraverso una detersione, stiamo lavorando anche con un sistema anti-età. Quando il prodotto è perfettamente nella sua soluzione oleosa, inumidite i polpastrelli e trasformate questo fantastico prodotto in un latte detergente, vellutato, che si fonde con la vostra pelle e ci permette di rimuovere perfettamente trucco, impurità e inquinamento che hanno stressato la nostra pelle durante la giornata. Vi ricordate il cotone? Abbandonatelo! Finalmente abbiamo una nuova soluzione. Una spugna fantastica in un materiale estremamente morbido, vellutato, che ci permette di rimuovere tutti i residui del nostro detergente, attraverso dei movimenti generosi, ampi e molto distesi. E a questo punto non avete bisogno neanche di risciacquare. Ora avete degli occhi perfettamente puliti, un viso perfettamente luminoso. Che cosa manca? Non dimenticatevi delle vostre ciglia. Se non le curate, non avete ciglia fantastica con il mascara. Quindi Essential ha pensato per voi un prodotto per la notte, un vero e proprio trattamento che cura, nutre e protegge le nostre ciglia. Va applicato come un mascara. Può essere utilizzato in due modi. Prima di andare a dormire o prima dell'applicazione del mascara. Avete avuto una detersione perfetta, un'idratazione ottimale, la pelle pulita e pronta per essere o ritruccata o eventualmente per concedersi la coccola del riposo.